Il PD è voluto intervenire sulla Phil Commission dopo l'istituzione ufficiale dettata dal testo unico sulla cultura approvato dal Consiglio regionale di recente per rivendicare il lavoro fatto in questi anni. Si ricorderà la proposta di legge del 2014 dello stesso consigliere regionale Pierpaolio Petrucci. Da lì un'epopea di riunioni e la destra di allora, ricordato Pietrucci, non voleva l'approvazione della legge. Lì si proponeva lo strumento importante della fondazione e lo fecero tagliare. Pietrucci è stato poi autore di un emendamento sotto la guida di Marsilio che metteva 100.000 euro che dovevano servire proprio per fare la fondazione per la Phil Commission, ma anche per quello fu no. Ora ribatte ci sono arrivati dopo quattro anni. Peccato che si sono persi cinque anni dall'approvazione della mia legge, che peraltro è stata tagliata proprio dall'ora destra che stava all'opposizione, della fondazione che era lo strumento migliore, che rinseriscono oggi loro a distanza di cinque anni. Noi rivendichiamo il lavoro fatto perché siamo il punto di riferimento del sistema cinema abruzzese e lo saremo nei prossimi anni. Rivendichiamo anche la scelta fatta di Sulmona, della provincia dell'Aquila, come luogo, sede della Phil Commission e sede della fondazione che si dovrà creare della nuova Phil Commission. I DEM promettono di incalzare la regione affinché la Phil Commission sia guidata da alcuni principi, ma insistono affinché anche il comune dell'Aquila costruisca un ufficio cinema. L'Aquila, dal punto di vista cinematografico peraltro, ha avuto sempre una certa importanza e l'Abruzzo non ha da invidiare nulla alle altre regioni, ma arrivando tardi ora deve essere più innovativo degli altri. Il consigliere Pietrucci si è battuto per un periodo anche in solitudine per avere uno strumento che alla fine arriva in Abruzzo tardi, perché le altre regioni già lo hanno e lo hanno utilizzato al meglio. La nostra regione ha una potenzialità enorme dal punto di vista della capacità di attrarre set cinematografici, che significa avere importanti produzioni, una risposta alla nostra economia, al nostro turismo, alla nostra cultura. L'Abruzzo ha avuto comunque la capacità di attrarle anche senza questi strumenti che agevolano e attirano. Adesso possiamo fare un salto avanti. Credo sia giusto ricostruire tutto il percorso che ci ha portato fin qua, dire la verità e poi investire.